Il treno Frecciarossa-Milano-Sapri è pronto a ripartire. È previsto infatti per il prossimo 19 aprile l'avvio dell'importante servizio che vede coinvolte le località turistiche della costiera cilentana. La regione campagna sborserà circa un milione di euro per due anni e garantirà così lo scalo del mese di aprile fino ad ottobre. Si tratta infatti di una bella notizia sollecitata a lungo dalle istituzioni e dagli operatori turistici del territorio cilentano. Rispetto allo scorso anno, quando il servizio partì a giugno, quest'anno sarà possibile avere un servizio di collegamento su rotaia già a ridosso delle vacanze pasquali. Credo che proprio a giorni avremo la conferma che i servizi partiranno nella seconda metà di aprile e quindi avremo un progetto di alta velocità per il territorio del Cilento che destagionalizza perché inizierà a metà aprile e terminerà a metà ottobre con una fase ovviamente più intensa nel periodo estivo. Quindi con un'anticipazione così come era stato chiesto dai tanti comuni del Cilento? Sì, assolutamente sì, è stato un progetto condiviso dalla regione e ovviamente anche da Trenitalia e credo che a breve potremo annunciare la ripresa di questo servizio con queste modalità. Il Frecciarossa fermerà in Cilento il venerdì, il sabato e la domenica nelle stazioni di Agropoli, Vallo della Lucania, Centola, Palinuro, Marina di Camerota e Sapri.